Benvenuti, ci siamo con questa partita a inizio la fase a gironi della UEFA Europa League. Benvenuti a un grande appuntamento sportivo, si respira un clima fantastico qui a San Siro. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telegrama di oggi, Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita in tua compagnia. Speriamo che le due squadre diano vita a un incontro emozionante. Parte l'inno dell'Europa League, la partita sa per iniziare, la tensione alle stelle. Grazie a tutti.